Sono 1189 le donne che nell'ultimo anno hanno contattato anche solo per informazioni o per essere ascoltate il centro antiviolenza Anachie di Pescara in aumento rispetto agli anni precedenti. Quelle che invece hanno intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza sono poco più del 10%, circa 150. Donne che per lo più provengono dall'area metropolitana Anachie di Pescara e che, nella stragrande maggioranza dei casi, sono italiane ed hanno un'età compresa fra i 40 e i 50 anni. A perpetrare le violenze, in maggioranza fisiche e psicologiche, troppo spesso non sono sconosciuti, ma fidanzati, mariti o ex. Dai dati però emerge una maggiore consapevolezza del problema della violenza di genere. Sicuramente c'è una maggiore consapevolezza perché possiamo dire che non è aumentata la violenza, ma sono le donne che decidono che rompono il silenzio e si rivolgono ai centri antiviolenza. Quindi i centri antiviolenza assumono un ruolo fondamentale proprio per dar parola alle donne, per poter raccontare la loro storia di violenza. Lunedì prossimo, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, anche il comune di Pescara, da anni impegnato sul tema con le politiche sociali a supporto della rete antiviolenza, darà il suo contributo, come spiega l'assessore Adelchi Sulpizio. Oggi annunciamo anche delle manifestazioni che sono anche simboliche, tipo il colorare il Campanile o il Ponte Flaviano, proprio a dimostrazione che le istituzioni sono vicine a questo problema. Ma a fianco a questi elemi, a piantare un albero che faremo lunedì mattina, ma a fianco a questi simboli vogliamo rimarcare un problema, un problema che è importante per la collettività, come diceva giustamente lei, i dati non sono piacevoli, sono dati che sono in continuo aumento. La cosa più importante è che le istituzioni ci sono, sono a fianco di queste associazioni, a tutto ciò che è il centro antiviolenza e siamo convinti che ci sia una maggiore consapevolezza.